va bene buongiorno benvenuti possiamo cominciare scusate ritardo beh è un piacere per la scuola galideiana per l'ateneo per me avere qua tito boeri oggi tutti voi lo conoscete ma insomma fatemi due dire due parole preso appunti perché il curriculum è lungo quindi leggo allora tito è ordinario di economia del lavoro presso l'università bocconi di milano e poi è direttore scientifico della fondazione rodolfo de benedetti direttore scientifico del festival dell'economia di trento editorialista per repubblica financial times le monde co fondatore del sito la voce quante altre cose ancora e poi soprattutto insomma è veramente uno dei più conosciuti economisti italiani lui ha scritto e continua a scrivere nonostante tutte le queste attività sulle più importanti riviste cito semplicemente alcuni giornali america che nomi review giorno economic perspective economic journal economic policy journal of the european economic association e molti altri bene non rubo più secondi ecco scusate ci abbiamo avuto qualche problema con le versioni di powerpoint ma così non dovremmo più avere non dovremmo più avere problemi so che siete italiani e quindi ho pensato di parlarvi del nostro paese e mi è stato detto di essere ottimista io cercherò di essere ottimista nonostante la partenza non sia forse delle più ottimistiche ma come vedete il titolo è in positivo per tornare a a crescere non è soltanto una riflessione in negativo credo che noi dobbiamo prendere atto di cosa è stata l'italia e l'economia italiana negli ultimi 15 anni e paragonare l'andamento della nostra economia a quella di altri paesi che sono in condizioni simili alla nostra quindi termine di comparazione non possono essere chiaramente i paesi emergenti che hanno vissuto negli ultimi decenni dei tassi di crescita molto elevati ma il termine di comparazione più adeguato è quello di economia avanzata quindi dei paesi dell'area dell'ox sono le economie che in qualche modo appartengono a quello che viene descritto come il club dei paesi più ricchi se noi compariamo la dinamica dell'economia italiana quella dei paesi dell'area ox ci rendiamo conto che l'italia è l'unico paese in cui il reddito pro capite quindi il reddito nazionale diviso dalla popolazione non è cresciuto negli ultimi 12 anni siccome i termini di comparazione sono economie avanzate non possiamo certo pensare che sia qualcosa che è portato dello sviluppo passato in particolare voi sapete ci sono ragioni di ritenere che ci siano dei possano essere dei rendimenti decrescenti all'accumulazione di capitale per cui nel corso del tempo le economie che sono cresciute di più in passato possono in qualche modo vedere un rallentamento della propria crescita economica non è questo il caso del nostro paese rispetto agli altri paesi perché appunto altre economie avanzate che hanno conosciuto tassi di accumulazione simili se non superiori a quelli del nostro paese hanno continuato a crescere a tassi sostenuti soprattutto se rapportati a quelli del nostro paese né possiamo in qualche modo dare una spiegazione di questa stagnazione dell'economia italiana di questo dato piatto sul reddito pro capite in termini di grandi shock che possono avere colpito la nostra economia rispetto ad altri paesi certamente abbiamo tutti subito degli shock molto rilevanti tra cui l'ultima grande crisi globale ma sono degli shock che hanno colpito molte altre economie e certamente non hanno colpito l'Italia in modo più intenso di altri paesi pensiamo per esempio al fatto che in Italia non abbiamo avuto grandi crisi bancarie come quelle sperimentate da diversi paesi nell'ultima crisi non abbiamo avuto lo scoppio di una bolla immobiliare altro evento chiaramente traumatico che ha degli effetti pesanti sul tasso di crescita dell'economia né abbiamo avuto in questo periodo di tempo delle grandi catastrofi naturali del tipo di quelle che sono state vissute da altri paesi pensiamo anche a quello che sta succedendo in Giappone quindi tutto questo ci fa pensare che il problema della mancata crescita del nostro paese di questo modello di stagnazione non si può certo parlare di sviluppo sia legato a delle questioni di natura strutturale quindi io in questa presentazione quello che cercherò di fare è innanzitutto darvi un po' di dati su questa stagnazione italiana sono dati utili non vorrei soffermarmi tanto se non che c'è sempre molto atteggiamento c'è sempre molto tentativo nella discussione pubblica in Italia di negare questo fatto di presentare tante statistiche che confondono per cercare in qualche modo di sottolineare il fatto che le cose vanno molto meglio di quanto possa apparire quindi penso sia utile darvi qualche elemento, qualche dato proprio che documenti questo fatto sulla stagnazione italiana avrei preferito dedicare più tempo alla seconda parte ma credo un minimo di attenzione a queste prime considerazioni sia indispensabile e poi cercare innanzitutto di affrontare un tema perché alcuni sostengono possiamo anche accontentarci di vivere in un paese in cui non c'è crescita ci sono anche teorie aperte esplicite che sottolineano il fatto che un paese può in qualche modo benissimo anche permettersi dei tassi di crescita addirittura negativi quindi discuteremo del perché invece per il nostro paese sia indispensabile tornare a crescere e una volta che abbiamo visto questo ovviamente gli interrogativi inevitabili sono cosa possiamo fare per tornare a crescere possiamo fare quello che la teoria economica e i ragionamenti e i dati ci spingono a fare è fattibile alla luce dei vincoli soprattutto dei vincoli di natura economica e quelli legati ai conti pubblici che stanno di fronte a noi e infine una volta che appureremo il fatto che queste cose sono fattibili alla luce di questi vincoli il quesito è perché non le abbiamo fatte sinora le cose su questo chiaramente vi darò soltanto alcune risposte molto indicative immagino che poi magari nella discussione verranno fuori altre risposte più ricche anche perché evidentemente questo è qualcosa che si allontana anche di non poco dalle mie competenze insomma l'economia è ancora lontana dall'avere sviluppato una scienza adeguata e una comprensione adeguata delle scelte politiche a mio giudizio partiamo da alcuni dati come vi dicevo prima anzi fatemi prima darvi proprio un breve riassunto non mi piace tenere suspense fino alla fine quindi cerco di dirvi quali sono le conclusioni del mio ragionamento poi vi sembreranno buttate lì poi ovviamente nella discussione credo che spero di riuscire a convincervi a riguardo si dice spesso che non ci può essere crescita senza risanamento senza stabilità nei conti pubblici questa è un'affermazione consueta per esempio del nostro ministro dell'economia è un'affermazione che io condivido però è altrettanto vero l'opposto cioè che non può esserci un risanamento economico di un paese soprattutto non ci può essere la possibilità di in qualche modo evitare il contagio della crisi del debito pubblico che in qualche modo incombe rispetto al nostro paese senza che il nostro paese torni a crescere questo sarà un po' il leitmotiv delle cose che dirò oggi l'Italia in effetti è fuori dall'occhio del ciclone almeno sin qui lo è stata non abbiamo subito attacchi speculativi del tipo di quelli che ci sono stati su altri paesi europei da partire dalla Grecia innanzitutto poi l'Irlanda, il Portogallo adesso il rischio anche di coinvolgimento della Spagna questo grazie sicuramente questo è un merito che va riconosciuto al ministro dell'economia e all'attuale governo ad una politica di contenimento del disavanzo tuttavia non basta fare questo senza crescita economica le preoccupazioni che ci sono sull'economia italiana sono soprattutto legate al medio periodo senza crescita anche il nostro debito pubblico diventa difficilmente sostenibile ti dirò che l'Italia oggi sembra essere in qualche modo impantanata in una serie di circoli viziosi che impediscono al paese di tornare a crescere e alla fine formulerò alcune proposte esempi perché non ho la pretesa di proporre un'agenda di governo ma semplicemente sono alcuni esempi di cose che si potrebbero fare per spezzare questi circoli viziosi e che hanno il vantaggio di essere a costo zero per le casse dello Stato quindi di non essere assolutamente contraddittori con la necessità di in qualche modo risanare i nostri conti pubblici ad abbassare il nostro debito pubblico purtroppo queste proposte mancano del tutto dal piano nazionale di riforma che è stato presentato dal nostro governo e che appunto mi sembra utile ribattezzare piuttosto con leggere l'acronimo in modo diverso come proprio nessuna riforma e quindi chiedendosi perché non ci siano queste riforme o non ci siano altre riforme che potenzialmente potrebbero andare nella stessa direzione chiaramente l'elenco che vi farò non pretende di essere esaustivo cercherò di spiegare il perché di questi ritardi in problemi di cultura politica e di orizzonti dei decisori politici ma partiamo dai dati che vi dicevo non sono molto rassicuranti ma bisogna credo prendere atto della realtà questo è l'andamento del reddito pro capite in diverse aree che sono a noi vicino e all'interno del nostro paese qui vedete la linea continua è l'Unione Europea 27 la linea tratteggiata è l'Unione Europea 25 quindi escludendo Romania e Bulgaria e poi abbiamo la parte tratteggiata l'Unione Europea a 16 vedete che qui l'andamento è simile per quanto riguarda l'andamento temporale abbiamo una crescita abbastanza sostenuta fino al 2007 poi una stabilizzazione poi la caduta legata alla grande recessione c'è una differenza di livello ovviamente tra queste aree ma comunque l'andamento è molto simile adesso vediamo che cosa è successo in Italia in questo periodo vedete la dinamica del nostro paese questa linea rossa è una dinamica diversa è una dinamica piatta diciamo fondamentalmente fino al 2006 poi abbiamo una piccola crescita tra il 2006 e il 2007 e poi quando lì si era fermata la crescita da noi abbiamo già l'inizio della recessione siamo entrati nella recessione prima che gli altri e poi abbiamo avuto una recessione pesante forse anche di più di quanto è avvenuto all'interno degli altri paesi e dopo questa pesante recessione l'economia che è ripartita ma ha dei tassi molto bassi inferiori a quelli che sono stati vissuti in altri paesi dell'Unione Europea nonostante che nell'Unione Europea ci siano diverse economie che siano state colpite molto duramente dalla crisi ricordavo prima le crisi bancarie ricordavo prima le crisi immobiliari che da noi sono state molto minori che altrove quindi il messaggio di questo grafico è quello di una economia piatta fondamentalmente che proprio perché è stata piatta negli anni precedenti la crisi ha vissuto la crisi non come un piccolo passo indietro nel tempo ma con un ritorno, una perdita secca di circa 10 anni di crescita del benessere delle famiglie insomma praticamente le famiglie italiane hanno perso 1000 euro a testa in questa recessione e questi 1000 euro a testa persi ci hanno riportato alla situazione di reddito pro capite della fine degli anni 90 cosa che non è avvenuta in altri paesi che anche quelli che hanno subito delle cadute del reddito più pesanti durante la grande recessione hanno perso qualche anno ma non così tanto come noi perché venivano da anni precedenti di forte crescita economica le prospettive per quanto riguarda l'andamento del prodotto interno lordo proprio sembrano indicare il fatto che da noi stentiamo a ripartire se in alcuni paesi la crescita diciamo e la grande recessione è stata quasi una piccola parentesi se vi mostrassi i paesi emergenti davvero lì si vede soltanto il 2009 come anno di crescita bassa o negative in alcuni paesi e poi dal 2010 si è ripartiti esattamente ai ritmi precedenti alla crisi anche rimanendo in ambito oxo in ambito europeo vedete che per molti paesi l'andamento dell'economia assomiglia se non una V ad una U purtroppo da noi quella linea rossa assomiglia di più ad una L quindi ad una economia che dopo avere subito questo crollo non riesce a ripartire non si riparte anche guardando ad altri indicatori economici vabbè questo è il prodotto interno lordo questa è la disoccupazione la cassa integrazione non è aggiornata con i dati usciti oggi che ci dicono che la disoccupazione è aumentata nell'ultimo mese i dati usciti qualche giorno fa parlavano di cassa integrazione anche questo è in aumento quindi il mercato del lavoro non sembra essere uscito di fatto dalla recessione la produzione industriale vedete anche qui è sempre utile mostrare questi diagrammi a livello questa è una questione anche dell'informazione in Italia spesso sui TG si tendono a presentare i dati sulla nostra economia in termini di tassi di crescita e quando ci sono delle forti discontinuità come una grande recessione come quella che abbiamo attraversato il dato sul tasso di crescita può essere estremamente fuorviante perché è ovvio che dopo un crollo del reddito così forte ci possano essere anche dei mesi o dei periodi brevi in cui c'è un rimbalzo ma chiaramente uno dovrebbe invece guardare all'andamento nel livello e riportare il livello io ho sentito ragionamenti davvero agghiaccianti televisivamente addirittura tesi beh questo addirittura al limite dell'indecenza che dicevano che siccome l'economia era cresciuta del 6% e rispetto c'era stato un crollo non mi ricordo più esattamente come era l'addizione comunque praticamente facevano desumere da un dato sul tasso di crescita il fatto che non avessimo completamente superato la recessione e fossimo andati meglio degli altri paesi sulla semplice comparazione di un tasso di crescita senza tenere conto del livello delle grandezze di riferimento quindi è davvero importante guardare ai livelli e questi sono invece dei dati sulle vendite al dettaglio che ci fanno anche capire com'è il profilo della domanda interna è utile per le cose che vi dirò dopo e vedete che anche qui non sembra esserci un miglioramento rispetto alla fase diciamo più bassa del ciclo e agli effetti della grande recessione perché quindi insomma credo che il giudizio sia abbastanza chiaro la nostra economia non sta ripartendo dopo la grande recessione fatica a ripartire a differenza di quanto avvenga in altri paesi tra l'altro a noi vicini quindi con realtà presumibilmente non poi così dissimili dalla nostra al tempo stesso non possiamo farne a meno cioè non possiamo fare a meno di crescere in Italia spesso ci sono alcune tesi che sono molto popolari mi capita spesso così andando a presentazioni di trovare qualcuno che sostiene le tesi della decrescita felice come se fosse una ricetta per il nostro paese beh credo che è una ricetta che ormai è ampiamente applicata troviamo applicata all'andamento della nostra economia purtroppo da noi è una ricetta che rischia di metterci in gravi difficoltà noi abbiamo bisogno di crescere per stabilizzare la spesa pensionistica per evitare che cresca in rapporto al prodotto interno lordo abbiamo bisogno di alimentare un tasso di crescita della nostra economia attorno al 2% all'anno quindi nettamente superiore ai tassi di crescita che abbiamo conosciuto negli ultimi 15 anni dovremmo tornare più o meno ai tassi di crescita agli anni 80 per farlo abbiamo bisogno di crescere per dare una pensione superiore ai minimi sociali ai nostri figli ormai si è passate al sistema contributivo le regole del contributivo sono chiaramente legate all'andamento dell'economia nel suo complesso è una regola giusta anche perché rende il sistema pensionistico sostenibile però dobbiamo essere consapevoli del fatto che se non c'è crescita economica questo comporta davvero dei trattamenti previdenziali molto bassi per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria c'è molta ricerca medica, farmaceutica e questa ricerca è quella che ha portato agli enormi progressi compiuti negli ultimi 30 anni nell'allungare la vita davvero dei progressi notevoli però chiaramente anche il fatto di permettersi quindi un'assistenza sanitaria che sia in grado di essere proprio sulla frontiera dell'innovazione richiede una spesa crescente e questo in un paese che invecchia significa che ci deve essere crescita economica serve crescere per ridurre le tasse come ormai è riconosciuto anche da coloro che avevano proposto tagli di tasse in modo del tutto a mio giudizio irresponsabile lo si dice apertamente una delle giustificazioni con cui anche il governo recentemente ha detto non possiamo ancora fare tagliare le tasse che non c'è crescita economica e questo è vero effettivamente possiamo permetterci di ridurre le tasse certamente nel momento in cui riusciamo anche a ridurre delle spese o comunque se teniamo in qualche modo la spesa fissa in termini reali abbiamo bisogno di crescere per poterci permettere di ridurre le tasse e infine abbiamo bisogno di crescere per pagare il debito pubblico e rispettare gli impegni che abbiamo preso in Europa perché questo è un aspetto che anche qui non appare tanto nel dibattito pubblico in Italia ma a fronte del peggioramento della crisi del debito pubblico nella zona dell'euro e anche comunque dell'aumento molto forte del debito pubblico negli Stati Uniti vedete queste sono le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale rispetto alla dinamica del debito pubblico in diverse aree in diversi paesi in diversi grandi paesi vedete che il debito pubblico è aumentato molto e che per stabilizzare solo stabilizzare il rapporto tra debito pubblico e PIL nel 2014 i paesi saranno chiamati tutti ad uno sforzo considerevole più forte quello del nostro paese rispetto a quello degli altri in virtù del fatto che il nostro debito pubblico è così alto alcuni leggono questa tabella dicendo che in modo rassicurante dicendo se anche gli altri paesi è peggiorato il debito pubblico le cose non possono siccome in termini relativi siamo messi meno peggio che in passato le cose quindi da noi vanno meglio in realtà non è così il problema è che appunto essendoci anche un debito pubblico più elevato in altri paesi si creano quelle tensioni sui mercati che poi hanno portato appunto a questa crisi del debito nell'eurozona che hanno aggravato quantomeno questa crisi e di più c'è anche il fatto che chiaramente c'è molta più competizione nel finanziare il debito pubblico da parte di diversi paesi comunque dato anche questo peggioramento della situazione debitoria dei paesi sono state riscritte le regole del patto di stabilità e crescita e il nostro paese ha sottoscritto queste nuove regole formalmente questa verrà nella riunione del Consiglio Europeo di giugno e queste nuove regole comportano il fatto che in aggiunta alle regole passate alcuni di voi si ricorderanno che appunto il patto di stabilità e crescita prevedeva dei limiti al disavanzo quindi anno per anno nei conti pubblici adesso ci sono anche delle norme sul debito pubblico sulla riduzione del debito pubblico queste norme sulla riduzione del debito pubblico sono abbastanza in qualche modo cogenti forti soprattutto per paesi con un debito pubblico elevato come il nostro perché bisogna rapidamente riportare il debito pubblico al 60% del prodotto interno lordo adesso siamo attorno al 120% bene questo grafico vi mostra quale dovrebbe essere lo sforzo che il nostro paese dovrebbe fare per cercare di mantenere gli impegni presi in Europa l'avanzo primario è l'avanzo di bilancio pubblico non tenendo conto della spesa per interessi la linea grigia vi mostra l'avanzo primario che dovrebbe essere conseguito in caso di crescita economica all'1% che è quella cui in questo momento noi siamo accreditati perché alla luce dell'esperienza passata insomma è difficile pensare che noi si possa crescere a più dell'1% e quasi se volete ottimistica la linea nera vi mostra invece quale potrebbe essere l'avanzo primario compatibile con gli obblighi presi in Europa se invece crescessimo a un tasso doppio a quello insomma al tasso del 2% all'anno vedete la differenza è sostanziale in un caso avremo bisogno di avere dei tassi degli avanzi primari dell'ordine del 5% all'anno e protratti abbastanza nel corso del tempo nell'altro caso invece avremmo bisogno di avere degli avanzi primari molto più contenuti quindi delle manovre diciamo di finanza pubblica molto meno onerose per il nostro paese ora avanzi primari del 5% e oltre sono già stati conseguiti nel nostro paese per esempio nel processo che ci ha portato all'ingresso nell'Unione Monetaria Europea questo ve lo mostra il grafico alla vostra destra però sono stati risultati che sono stati conseguiti per poco tempo quindi pensare che per molto tempo la nostra economia possa avere degli avanzi primari così importanti è difficile di più alla luce anche degli ultimi dati di finanza pubblica del documento di finanza pubblica e di economia di finanza presentato la settimana scorsa si preannuncia in assenza proprio di un'economia che torna a crescere una manovra molto impegnativa per il nuovo governo quello che si insederà nel 2013 si parla e viene riconosciuto esplicitamente già dai documenti di finanza pubblica del governo di una manovra di circa 40 miliardi ma potrebbe essere una stima ottimistica perché questa ingloba delle previsioni sull'impatto delle misure già prese che a mio giudizio sono decisamente ottimistiche in particolare si ritiene che ci saranno delle entrate dalla lotta all'evasione consistenti e qualche ragione di dubitare di queste entrate non può che esserci quindi fondamentalmente se non torniamo a crescere avremo di fronte a noi una situazione molto difficile per quanto riguarda le manovre nei conti pubblici con aggiustamenti significativi da compiere in un arco di tempo limitato e a rischio a quel punto di indebolire ulteriormente la crescita economica e quindi di entrare in un circolo vizioso come quello che ha caratterizzato altri paesi della crisi del debito che si trovano adesso proprio in questa condizione in cui devono fare degli aggiustamenti molto onerosi facendo questi aggiustamenti riducono la crescita e la crescita che non c'è o la caduta la recessione che viene causata da queste manovre porta a rendere ancora più oneroso l'aggiustamento che serve a riequilibrare i conti pubblici e renderli sostenibili quindi ci sono dei rischi molto forti a meno di fare qualcosa come quindi una volta che siamo d'accordo sul fatto che l'economia italiana deve tornare a crescere cerchiamo di capire come c'è molta letteratura sulla crescita economica ci sono dei testi molto belli alcuni anche sui paesi in via di sviluppo c'è una che faccio una pubblicità al festival dell'economia perché avremo Bill Easterly che ha scritto un libro bellissimo che si chiama The Illusive Quest for Growth insomma in cui proprio discute il mistero della crescita economica perché è molto difficile capire come si può in qualche modo soprattutto in economie che sono in difficoltà e poi il riferimento nel suo caso è agli economie dei paesi in via di sviluppo a rilanciare la crescita economica ci sono probabilmente in paesi come il nostro che vengono da anni di mancata crescita quindi da una situazione strutturalmente di stagnazione dei circoli viziosi che si sono messi in atto degli equilibri che si sono creati degli equilibri negativi che impediscono al nostro paese di partecipare ad una crescita che in altri paesi è molto più forte quindi il trucco diciamo per cercare di rimettere in moto un paese è quello di bloccare questi circoli viziosi e invece cercare di mettere in moto dei circoli virtuosi facendo anche cambiando le aspettative delle persone degli agenti economici in modo tale che pensino che si è cambiato regime e quindi da quel circolo vizioso ci siamo ormai messi su un circolo virtuoso in cui c'è magari anche più presa di rischio ma anche più crescita economica le riforme strutturali di cui si parla da molto tempo io oggi non scoprirò nulla di nuovo a questo riguardo c'è una letteratura vastissima sulle riforme strutturali da fare all'interno del nostro paese servono proprio a dare questo cambiamento di regime ecco il quesito che invece è importante porsi in questo momento è possibile fare queste riforme strutturali alla luce del nuovo quadro macroeconomico in particolare della necessità di affrontare in modo così impellente e così rapido i problemi del nostro debito pubblico è una sottolineatura importante perché spesso nel dibattito pubblico in Italia si sente dire ma noi dovremmo forse sì fare delle riforme ma non possiamo permettercele perché la situazione dei nostri conti pubblici non ce lo permette bene io quello che cercherò di documentarvi gli esempi che vi farò sono tutti esempi di riforme che potrebbero essere fatte a costo zero per le casse dello Stato quindi senza avere alcun effetto negativo sui nostri conti pubblici invece avendo gli effetti positivi che da un rilancio della crescita potrebbero derivare la prima riforma a costo zero il primo esempio di riforma a costo zero è legata al mercato del lavoro è una cosa di cui mi sono occupato negli ultimi anni voi tutti sapete se non per esperienza diretta perché molti di voi sono ancora nell'università ma per conoscenze quanto il mercato del lavoro italiano sia diventato duale un mercato del lavoro che offre opportunità diverse a chi è già dentro al mercato e ha dei contratti a tempo indeterminato rispetto a chi è fuori dal mercato la situazione è solo peggiorata con la grande recessione ormai l'ingresso nel mercato del lavoro come ci dicono i dati amministrativi quando vengono resi pubblici purtroppo c'è questa pessima consuetudine in Italia di non rendere pubbliche le statistiche i dati amministrativi che vengono raccolti comunque per cui non sappiamo per esempio i dati delle comunicazioni obbligatorie che tutti i datori di lavoro devono fare ogni qual volta procedono ad un'assunzione sarebbero molto importanti per capire come sta cambiando il profilo dell'assunzione in Italia per fortuna ci sono delle agenzie del lavoro come quella del Veneto che pubblicano invece questi dati e questi dati ci dicono che ormai il 90% delle assunzioni avviene con dei contratti temporanei o nell'ambito del parasubordinato bene qui la questione è cercare di evitare che queste persone che entrano al mercato del lavoro rimangano in qualche modo intrappolate in questo mercato del lavoro secondario che non solo è molto più instabile dell'altro mercato del lavoro ma anche un mercato del lavoro in cui non c'è investimento in capitale umano questo è il fatto forse più grave in prospettiva e anche per la crescita economica del nostro paese perché di fatto sia il datore di lavoro che il lavoratore non hanno gli incentivi giusti per acquisire conoscenze specifiche all'interno dell'azienda in cui operano e questo fa sì che il lavoratore diventi ancora più vulnerabile quindi licenziabile non appena le cose vanno male e dall'altro lato che la produttività anche di questi lavoratori che partono magari con un livello di istruzione formale non basso al cospetto di altri lavoratori però il capitale umano quello che è utile per l'azienda è anche un capitale umano che si forma molto all'interno dell'azienda non hanno gli incentivi perché per il datore di lavoro i lavoratori che hanno quei contratti sono una specie di cuscinetto d'aggiustamento da utilizzare non appena le cose vadano male e quindi non si ha quell'orizzonte lungo da cui si giustifica la scelta di investire nella loro formazione normalmente i datori di lavoro investono sui giovani perché possono ammortizzare i costi di questi investimenti in formazione durante l'intero arco della vita lavorativa ma se il giovane ha un contratto a tempo determinato un contratto che ha una scadenza e pensano già che probabilmente quel giovane dovrà essere licenziato se appena le cose non vanno bene non c'è lo stimolo a investire nel giovane dal lato dei giovani c'è meno lo stesso c'è un ragionamento simile se la durata di questo impiego è limitata non ho dei benefici dall'investire in conoscenze specifiche a questo lavoro di più c'è anche il fatto che i rendimenti dell'istruzione almeno misurati guardando a qual è il premio che io acquisisco in termini salariali per ogni anno aggiuntivo di istruzione quando io sono assunto con dei contratti temporanei sono molto ma molto più bassi di quelli che ho con dei contratti a tempo indeterminato quindi l'investimento in capitale umano che viene fatto rende molto di meno se io sono in quel mercato del lavoro duale quindi quello che bisognerebbe cercare di fare è di unificare questi due canali la proposta di un contratto unico a tutte le progressive è proprio quello di far sì che il canale principale di assunzione sia un contratto che è a tempo indeterminato ma che non in qualche modo non è un deterrente al datore di lavoro il datore di lavoro assume con un contratto che non ha una scadenza sapendo che inizialmente questo contratto gli dà una certa flessibilità che gli permette di valutare le qualità del lavoratore non di doversi trovare immediatamente di fronte a dei costi di licenziamento altissimi nel caso in cui decidesse che quel lavoratore non è adeguato è un modo per affrontare le enormi assimetrie informative che sono presenti oggi all'interno del mercato del lavoro al tempo stesso bisognerebbe dissuadere l'abuso dei contratti temporanei facendo sì che ci sia un principio assicurativo applicato a questi contratti oggi l'assurdità della situazione è che sono lavori che spesso finiscono nella disoccupazione ma i datori di lavoro pagano di meno per tutte le prestazioni assicurative sociali che dovrebbero essere pagate per l'assicurazione di disoccupazione per la previdenza eccetera mentre il principio dovrebbe essere che di fronte al rischio più alto chiaramente il contributo pagato dal datore di lavoro per questi contratti dovrebbe essere più alto questo servirebbe proprio anche a evitare un abuso degli stessi una riforma di questo tipo avrebbe costo zero per le casse dello Stato e credo servirebbe molto a ridurre la portata di questo dualismo senza per questo ridurre il contenuto di crescita occupazionale legato all'andamento dell'economia cioè non vogliamo tornare alla situazione precedente l'introduzione dei contratti temporanei in cui c'erano pochissime assunzioni in Italia noi vogliamo tenere il lato buono di quella flessibilità in termini di maggiori assunzioni di maggiore rispondenza anche dell'andamento dell'occupazione alla crescita economica non vogliamo tornare agli anni oscuri della crescita certo noi piacerebbe avere crescita economica ma allora c'era crescita economica senza crescita occupazionale oggi non abbiamo più crescita economica abbiamo avuto in passato però prima della grande recessione un po' di crescita occupazionale ecco non vogliamo rinunciare anche alla crescita occupazionale per farlo credo che questo sia un modo per tenere i lati positivi tra l'altro avrebbe degli effetti anche immediati sulla crescita economica perché credo che ci sia molto risparmio precauzionale oggi legato al fatto che c'è questa grandissima incertezza sulle prospettive occupazionali sulle prospettive di carriera giovani che non possono fare dei progetti perché hanno proprio in partenza hanno questi contratti a termine e questo termine questa scadenza in realtà spesso è una profezia che si autorealizza per le ragioni che vi dicevo prima non c'è formazione quindi il lavoratore è di fatto alla merce del datore di lavoro e costa così talmente meno licenziarlo che anche se magari ha delle prospettive di crescita nell'impresa maggiore il datore di lavoro si concentra su questi lavori beh l'abbiamo visto durante la grande recessione non c'è bisogno di parlarne a lungo quattro posti di lavoro distrutti su cinque erano posti di lavoro con contratti di questo tipo quindi questo è un modo per esempio per bloccare un circolo vizioso che è un circolo vizioso che era fatto appunto di lavori di diciamo poco molto a rischio diversi dagli altri dagli altri dagli altri lavori bassi salari bassa produttività bassi investimenti delle imprese nella formazione quindi un circuito diciamo vizioso di questo tipo con creazione di lavori a bassi salari e a bassa e a bassa produttività un secondo circolo vizioso è quello che riguarda la partecipazione femminile noi abbiamo un tasso di partecipazione femminile molto basso tra l'altro riscontrato ancora ieri da un rapporto dell'Ocse qui si mettono insieme tanti fattori ci sono questioni di natura economica legate agli incentivi economici ci sono delle ragioni legate alla cultura c'è molta letteratura sulla cultura sugli atteggiamenti culturali sull'atteggiamento che nei confronti delle donne del lavoro delle donne soprattutto delle madri una posizione delle attitudini delle percezioni molto negative delle madri quando per esempio mettono i figli al nido ci sono delle questioni legate al potere contrattuale delle donne nelle coppie che spesso è molto basso perché partecipano poco al mercato del lavoro e quindi la bassa partecipazione al mercato del lavoro le porta ad essere in una posizione di fragilità nella negoziazione che ha luogo all'interno della famiglia c'è un dato a mio giudizio molto eloquente che abbiamo scoperto qualche anno fa abbiamo fatto una ricerca sull'uso del tempo in diversi paesi europei e abbiamo provato a sommare il tempo di lavoro formale cioè quello pagato nel mercato col tempo di lavoro a casa quello legato a tutte le attività domestiche che non sono retribuite ma che certamente hanno un valore importante ed è venuto fuori che l'Italia è l'unico paese in cui quando si sommano i due tempi di lavoro le donne lavorano di più in modo significativo degli uomini e negli altri paesi tutto sommato sommando i due tipi di lavoro si arriva allo stesso livello tra uomini e donne invece in Italia c'è una forte disuguaglianza a svantaggio delle donne che lavorano di più quando si sommano questi due aspetti quando abbiamo presentato questi risultati naturalmente mia moglie ha subito commentato non c'era bisogno di fare un convegno lo sapevo già è un dato comunque che dimostra il fatto che c'è poco potere contrattuale delle donne all'interno della famiglia io credo bene se noi facessimo alcune riforme che sbloccano almeno uno di questi meccanismi per esempio quello degli incentivi economici alla partecipazione femminile potremmo probabilmente con questo anche smuovere qualcuni di quegli altri vincoli a partire dall'aumentare il potere contrattuale della donna all'interno della famiglia e poi chiaramente anche cambiare le percezioni culturali perché c'è molta letteratura che dimostra come i cambiamenti culturali avvengono in realtà avvengono proprio sulla base dell'esperienza personale i figli di coppie in cui entrambi lavorano sono persone che sono molto più prone a una divisione più equa delle responsabilità e dei carichi familiari all'interno della famiglia per fare un esempio allora da che cosa potremmo partire beh si parla da anni di una riforma fiscale da fare nel nostro paese perché non fare una cosa molto semplice senza pensare certo ci sono tante cose da fare ma questa è una cosa semplicissima noi oggi stiamo incentivando le famiglie a tenere una persona un coniuge a casa perché di fatto le detrazioni per coniuge a carico hanno questa funzione di fatto rendono poco convenienti e soprattutto lavori poco retribuiti come quelli che è stato fuori dal mercato del lavoro per un certo periodo può ambire ad avere bene invece di avere delle detrazioni per dei coniuge a carico perché non introduciamo come in altri paesi l'esempio del Regno Unito ma ormai questi schemi esistono in moltissimi altri paesi europei dei crediti di imposta per famiglie chiaramente a basso reddito in cui entrambi i coniugi lavorano oppure li possiamo anche introdurre su base individuale cosa che avrebbe delle proprietà ancora migliori molti esercizi di micossimulazione ci portano a ritenere che avremo un incremento molto consistente della partecipazione femminile al mercato del lavoro e questo potrebbe mettere in moto tutti gli altri aspetti oltre che avere anche delle proprietarie distributive desiderabili perché sarebbe un aiuto importante alle famiglie più povere quindi questo è un altro esempio di una riforma a costo zero perché sarebbe a parità di gettito noi stiamo sostituendo una misura con un'altra misura terza cosa le liberalizzazioni se ne parla spesso quindi voi giustamente potrete anche accogliere questa frase con un certo scetticismo come molte parole d'ordine di cui si parla allora ho cercato soltanto di presentarvi alcuni dati che a mio giudizio parlano molto di più di tanti ragionamenti perché è chiaro le liberalizzazioni hanno dei costi se ci sono tante resistenze a fare delle liberalizzazioni è perché qualcuno viene colpito cioè subisce dei costi da queste liberalizzazioni però guardiamo al dato aggregato e complessivo delle liberalizzazioni ci sono degli esperimenti che sono stati di fatto compiuti in Italia involontari nel senso che delle riforme che non sono state introdotte in modo simmetrico in diverse parti del paese questa per esempio la riforma del commercio introdotta nel 98 è una riforma che poi è stata messa in atto quella che permetteva la costruzione di grandi superfici commerciali la vendita della benzina presso i grandi supermercati l'attuazione di queste riforme era in qualche modo competenza delle regioni perché sono scelte che appartengono alle regioni alcune regioni hanno fatto queste riforme altre regioni le hanno fatto solo in parte alcune regioni non le hanno fatte del tutto quindi noi possiamo provare a comparare l'andamento di alcuni aggregati tra questi tre blocchi di regioni e questo ci può dire qualcosa sull'effetto delle liberalizzazioni vedete questo è l'andamento dell'occupazione l'istogramma che più alla vostra sinistra vi dice quello che è successo nelle regioni che hanno riformato questo calo dell'occupazione si è riscontrato nei paesi che hanno fatto nelle regioni che hanno fatto una riforma parziale e invece un piccolo incremento nelle regioni che non hanno fatto alcuna riforma questi sono i dati sui salari vedete che i salari sono aumentati di più nelle regioni che hanno fatto le riforme diciamo i salari nella grande distribuzione l'occupazione nella grande distribuzione stiamo parlando e questi sono invece i dati sulla produttività e anche qui sembrerebbe che i dati più favorevoli si siano riscontrati nelle regioni che hanno attuato delle riforme questo non vuol dire che non ci possano essere degli effetti lordi negativi che alcuni piccoli esercizi magari siano penalizzati che qualcuno perde il lavoro ma nell'impatto netto diciamo di queste riforme sembra essere positivo e molto incoraggiante da tutti i punti di vista perché c'è più occupazione ci sono salari più alti e c'è produttività più alta che sono una combinazione chiaramente molto positiva e desiderabile c'è anche un altro aspetto però per liberalizzare e migliorare la produttività e questo è un dato che noi questa è una forza che in qualche modo c'è una piccola e lenta trasformazione che sta avvenendo nell'economia italiana questi sono i messaggi di fiducia che vi sto dando che sta avvenendo con l'internazionalizzazione della nostra della nostra struttura produttiva diversi studi che sono andati a guardare alla produttività delle imprese hanno riscontrato che in Italia c'è una fortissima eterogeneità coesistono imprese che sono molto efficienti con delle imprese che sono molto poco efficienti questa è una distribuzione di produttività ma sono su tre aggregati diversi di imprese abbiamo le imprese a seconda del loro grado ordinate a seconda del loro grado di internazionalizzazione la distribuzione quella rossa vi fa vedere la produttività nelle imprese che sono proprio incentrate sul mercato interno che non esportano non hanno partecipazione di capitale straniero non delocalizzano quindi non intervengano non hanno degli investimenti diretti all'estero la linea verde si concentra su imprese che esportano quindi i beni prodotti vengono venduti all'estero la linea blu invece vi fa vedere delle imprese che sono invece impegnate con investimenti diretti all'estero quindi che hanno delocalizzato parte delle loro produzioni c'è una differenza sostanziale cioè le imprese più internazionalizzate sono più produttive voi direte c'è un effetto di selezione sono le caratteristiche però vi assicuro che queste cose rimangono anche quando controlliamo per le caratteristiche molte caratteristiche osservabili delle imprese tipo la dimensione innanzitutto di impresa il settore produttivo eccetera quindi effettivamente l'internazionalizzazione sembra portare ad un livello di efficienza maggiore delle nostre imprese lo dico e ne sono convinto anche perché noi abbiamo studiato a fondo gli stili di management nelle imprese italiane il management è un fattore cruciale nell'aumentare l'efficienza delle imprese ci siamo resi conto che le imprese internazionalizzate ormai sono passate ad uno stile di management che è molto simile a quello che prevale nei mercati internazionali in altri paesi che hanno un livello di efficienza nettamente superiore al nostro cioè è un management basato sui risultati in cui il management viene scelto valutato ha delle promozioni pagato in base alla performance dell'impresa che deve gestire nelle altre imprese quelle tutte concentrate sul mercato interno il tipo di stile di management spesso è completamente diverso è quello che io definirei come un modello fedeltà in cui il manager è un po' l'esecutore direi testamentario alla luce del fatto che c'è molto passaggio di consegne da genitori a figli all'interno di queste imprese delle volontà della proprietà e non si cura minimamente della performance dell'impresa non incide minimamente sulla carriera del manager sulla sua retribuzione sulla sua possibilità viene licenziato se non obbedisce a quello che gli viene chiesto dalla proprietà che talvolta le richieste sono anche abbastanza se volete non particolarmente legittime perché il compito di alcuni di questi manager è poi quello di organizzare l'evasione fiscale quindi ci sono questi due modelli di management che coesistono in Italia con un continuo di differenze eccetera però nelle imprese più internazionalizzate prevale quello stile di management che sembra essere più in grado di sostenere la crescita economica questo semplicemente vi dice che appunto il problema dell'Italia è un problema di bassa produttività non è un problema di basso di salari troppo troppo alti al contrario qui si lamentano tutti giustamente i lavoratori e i datori di lavoro i datori di lavoro ci lamentano perché il costo del lavoro per unità di prodotto che è quello che gli permette di competere una misura della competitività sui mercati internazionali il divario la comparazione tra Italia e Germania si è ampliato ed è molto forte i lavoratori si lamentano perché i loro salari non sono cresciuti hanno entrambi ragioni il problema è che la produttività è molto bassa quindi dobbiamo trovare dei modi per far crescere la produttività la produttività insomma è quel fattore che ci permette di alimentare in modo continuativo dei tassi di crescita elevati di un'economia e quando parliamo di crescita noi parliamo in realtà appunto di riuscire a rilanciare la produttività altra riforma a costo zero la delegefierazione di cui si è parlato tantissimo in Italia se ne è parlato talmente tanto che è stato introdotto anche un ministro che ha il titolo di ministro per la semplificazione legislativa allora vi leggo vabbè questi sono alcuni dati sulle leggi in Italia rispetto agli altri paesi in effetti quelli che hanno provato a fare questa conta io davvero non sono esperto in materia però penso che mi fido abbastanza delle fonti penso che sia vero che l'Italia ha un numero di leggi superiore a quello di altri paesi sembrerebbe che queste cifre sono davvero ragguardevoli il doppio della Francia addirittura quattro volte se non cinque quelle della Germania ecco il nostro ministro per la semplificazione legislativa che quindi è nato sulla base di questo riscontro in effetti a un certo punto ha introdotto una prassi pur essendo che in questa legislatura sono state create delle leggi molto complesse che hanno poi messo in piedi una serie di addempimenti legislativi ulteriori pensiamo alla riforma universitaria voi la conoscete bene quanta decretazione ha dato luogo la cosiddetta riforma Gelmini non parliamo poi del federalismo quindi tante 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 nuove leggi corpo legislativo che si somma alle precedenti non c'è un riordino l'idea della legge quadra comunque il ministro Calderoli a un certo punto è uscito con una norma che mi sembrava di buon senso e valida ogni rinvio diceva questa cosa quando voi cambiate una legge intervenite dovete sempre precisare che cosa state facendo in modo tale che la legge sia in qualche modo trasparente così la gente sa perché molti aggiustamenti sono fatti in modo del tutto poco trasparente neanche gli addetti ai lavori sanno che cosa c'è in quella legge quindi per il parlamentare se non per il cittadino comune sarebbe giusto saperlo quindi diceva se voi cambiate una legge dovete spiegare esattamente in modo comprensibile il testo la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento il principio contenuto nelle norme a cui si rinvia che essi intendono richiamare in altre parole dite che cosa state cambiando ditecelo in modo chiaro anche perché questo insomma in qualche modo poi può essere qualcosa su cui interveniamo per ulteriormente semplificare per togliere quelle leggi che non sono più in vigore quelle normative che non sono più in vigore dare dei segnali anche alle persone più chiare in Italia diciamo ci sono delle rendite enormi delle persone che proprio sono consulenti io lo vedo nel campo che seguo di più i consulenti del lavoro chiaramente hanno un mestiere che è cresciuto sono cresciuti come numero come retribuzioni perché in un quadro così complesso in una normativa così complessa chiaramente hanno delle rendite fortissime è un datore di lavoro oggi se lo deve assumere qualcuno veramente è in difficoltà nello scegliere quale tipo di contratto sono delle norme estremamente complicate le disposizioni che si cancellano che annullano le precedenti vabbè comunque insomma alla fine esce fuori questa norma che mi sembrava una norma adeguata vediamo se è stata applicata nell'ambito proviamo a vedere il testo per esempio di una delle ultime leggi votate dal nostro Parlamento il cosiddetto mille proroghe lascio a voi leggere qualche frase qualche stralcio qui e vedere se rispetta l'obiettivo è di spiegare esattamente cosa stiamo cambiando leggiamo forse non so è ulteriormente prorogato al 32 dicembre 2011 il termine di qui al primo periodo del comma 8 quinquies dell'articolo 6 del decreto legge 28 dicembre forse lo leggo per quelli di voi che sono in fondo perché davvero è un po' faticoso leggere queste cose numero 300 convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2007 numero 17 insomma comma 5 comma 6 eccetera quindi mi sembra che non stiamo assolutamente andando in quella direzione questi sono soltanto ripeto alcuni esempi quello che è comune a questi esempi che sono delle riforme a costo zero per le casse dello Stato e quindi perfettamente compatibili se non sinergiche con un processo di consolidamento fiscale e di miglioramento dei nostri conti pubblici si dice spesso appunto che il vincolo di bilancio pubblico che impedisce le riforme e non è affatto vero sono delle riforme che costano a zero per le casse dello Stato a differenza di altre che sono state proposte recentemente come questo fondo antiscalate che doveva intervenire tra l'altro sulla vicenda Parma per impedire l'internazionalizzazione altre riforme possono essere fatte cambiando la composizione della spesa in una direzione diversa però da quella che è stata fatta fin qui io voglio solo dirvi quindi si può anche cambiare si può fare politica di bilancio quando si interviene nel tagliare la spesa per esempio intervenire in modo selettivo e tagliare alcune spese di più di altre e intervenire sulla composizione della spesa insomma basta fare un raffronto tra la composizione del bilancio pubblico nel Regno Unito e in Italia per rendersi conto di come la nostra spesa sia molto meno guardi molto meno in là nel tempo sia molto meno se volete da una parte c'è un aspetto generazionale guardi molto meno ai giovani ma guardi anche molto meno alla crescita in generale questa è la composizione del bilancio pubblico la spesa pubblica corrente in Italia e nel Regno Unito vi lascerò le diapositive perché devo un po' accelerare nei tempi ma il messaggio mi sembra evidente guardiamo ad alcune istruzioni e ricerca in Italia spendiamo meno del 10% nel Regno Unito è il 13% beni culturali e attività beni e attività culturali due eventi nel Regno Unito mentre in Italia l'1,3% ambiente e sviluppo urbanistico qualcosa che pensa anche alla qualità dell'ambiente lo sviluppo sostenibile per le generazioni future ha molto a che vedere anche con l'ambiente in Italia spendiamo l'1,7% nel Regno Unito il 7,3% ammortizzatori sociali sono fondamentali gli ammortizzatori sociali per cambiare specializzazione produttiva per far fronte ai problemi dell'ingresso nel mercato del lavoro per sostenere e per proteggere contro i rischi enormi che ci sono soprattutto nelle prime fasi di attività lavorativa in Italia spendiamo e assistenza il 3,7% nel Regno Unito l'11,02% e potrei andare avanti con altri esempi l'altro esempio invece in cui chiaramente voi vedete stridente sono le politiche previdenziali dove spendiamo il 37% a fronte del 21% del Regno Unito ora voi direte il Regno Unito non ha i problemi del nostro debito pubblico obiezione validissima e giusta che io accolgo è vero loro non hanno il problema di pagare un debito pubblico oneri sul debito pubblico rilevanti come noi in effetti loro spendevano nel 2008 circa il 4% e sospendono di più il 4,5% del PIL per il debito pubblico noi invece spendevamo per il debito pubblico l'11% quindi più del doppio però le differenze sono molto più forti di quanto vi possa dire la cifra degli oneri sul debito pubblico vedete che le differenze se le sommiamo le deviazioni sono molto più consistenti di questo 7% in più che noi spendiamo per il debito pubblico e di più quando noi abbiamo la possibilità di pagare di meno per il debito pubblico non usiamo questi diciamo gradi di libertà in più per ricomporre la spesa pubblica in modo che sia più favorevole alla crescita economica vediamo cosa è successo dal 2007 al 2009 in Italia l'unico forse dato positivo della grande crisi è stato quello di far abbassare gli oneri sul debito pubblico quindi gli interessi sono calati e quindi abbiamo pagato di meno la spesa per interessi vedete questa è la riduzione nella quota di spesa corrente che è andata al debito pubblico in Italia durante il periodo 2007-2009 quindi un calo consistente quasi un punto e mezzo percentuale bene noi potevamo usare queste risorse aggiuntive per espandere altri settori che hanno potenziale di rafforzare la crescita economica invece quello che abbiamo fatto contrariamente a tutti gli altri paesi dell'area OXE che durante le crisi investono nell'istruzione e nella ricerca abbiamo ridotto la spesa per l'università e per l'istruzione e per la scuola mentre invece abbiamo ulteriormente aumentato la quota che andava alle politiche previdenziali quindi effettivamente le scelte di bilancio anche bisogneranno fare scelte di bilancio e politiche di bilancio che guardano la crescita vabbè questa la faccio veloce perché ve ne ho già parlato all'inizio ne abbiamo obiettivi in questa direzione il nostro governo ha dovuto presentare nell'ambito della programmazione europea un piano nazionale per le riforme questo piano è assai poco ambizioso prevede che l'Italia abbia un livello di istruzione terziaria già molto basso in Italia al di sotto di quello della Romania da qui al 2020 non c'è risparmio energetico il piano di risparmio energetico che doveva esserci che è molto importante anche alla luce dei problemi attualmente l'incertezza inevitabile che oggi c'è e poi del probabile fatto che una delle implicazioni della crisi attuale è quella che il costo dell'energia nucleare è destinato ad aumentare moltissimo quindi noi la prima cosa che dobbiamo fare è pensare ad un modo più efficiente di utilizzare le fonti oggi disponibili quindi non c'è assolutamente non ci sono non sono previsti delle riforme quindi non illudiamoci almeno scritto nero su bianco in questo piano che tra l'altro deve essere venduto all'estero quindi presenta le cose meglio di quelle che siano non c'è nessun piano di fare alcune riforme da qui alla fine alla legislatura e quindi chiudo con la domanda su cui chiedo a voi di intervenire perché probabilmente ne sapete più di me avete delle idee più forti della mia perché non si fanno queste riforme io penso che ci sia un problema di cultura politica abbiamo una classe politica che pensa ancora che le riforme si possano fare solo con i soldi pubblici e quindi quando non ci sono risorse pubbliche dice l'unica cosa che possiamo fare è stringere i cordoni della borsa non possiamo fare nulla oppure c'è una parte anche di cultura politica che ritiene che quelle riforme che sono appunto l'internazionalizzazione l'apertura la concorrenza le liberizzazioni perché molte delle riforme a costo zero sono tutte all'insegna dell'apertura siano delle riforme che non vanno bene per il nostro paese alcuni cavalcano queste cose altri magari ne sono convinti davvero e quindi pensano di più che la protezione locale è il fattore strategico per il successo vi farò un esempio fra poco c'è un'ideologizzazione del confronto per cui introduce altre distinzioni molte di queste riforme sarebbero passibili con delle alleanze trasversali credo che prevalgono al di là degli schieramenti politici e ideologici ma l'ideologizzazione del confronto crea delle nuove divisioni e questo rende impossibile trovare il sostegno necessario il consenso necessario per fare queste riforme c'è una selezione della classe politica tale da privilegiare orizzonti di breve respiro sia come anzianità anche anagrafica ma non è l'aspetto anagrafico in quanto tale ma soprattutto anche come preparazione come cultura come atteggiamento in generale rispetto alle proprie funzioni ora tuttavia come dicevo prima alcune riforme possono avere degli effetti immediati per esempio quelle sul mercato del lavoro sono quelle sia quelle per i giovani che per le donne potrebbero avere già un effetto in tempi molto molto rapidi quindi non è solo l'orizzonte è un problema credo proprio di cultura politica questa è una è una citazione famosa di un diciamo un documento esclusivo sulla globalizzazione che dice appunto fondamentalmente tutti i mali del mondo compresa l'inflazione cosa davvero strana perché tutto si può dire alla globalizzazione ma che possa aumentare i prezzi è veramente difficile sostenerlo ma questo veniva sostenuto in questo documento ed è la stessa però atteggiamento che ci porta a essere disarmati davvero di fronte alle sfide della globalizzazione compresa quella dell'immigrazione ma non c'è tempo di parlarne ma io credo che questo atteggiamento logalistico è quello che ci espone oggi anche al lato più pericoloso e più difficile di gestione difficile anche legata alla crisi di Lampedusa ma magari ne parliamo nella discussione dopo il problema è la selezione della classe politica l'età dei politici è aumentata molto più rapidamente di quella della popolazione di riferimento c'è un altro dato scusate e con questo vado davvero alla chiusura che è interessante l'abbassamento del livello di istruzione della nostra classe politica dal 1950 ad oggi la percentuale di politici con livello di istruzione con laurea si è ridotto fortemente eravamo quasi al 100% siamo a due terzi dei parlamentari che adesso hanno una laurea si pensa normalmente che questo possa succedere questa selezione avversa quando uno ha delle retribuzioni relativamente basse di fatti una delle giustificazioni per aumentare la paga dei parlamentari miglioriamo la qualità dei parlamentari così attraiamo delle persone di livello di istruzione di capacità più alte la linea blu vi fa vedere la paga dei parlamentari italiani come è aumentata dal 1950 ad oggi è aumentata del 1100% al 10% all'anno quando il reddito pro capite degli italiani aumentava circa al 3% all'anno quindi da noi sembra essere avvenuto qualcosa di molto diverso uno potrebbe dire ma forse perché è diventato un po' più popolare la classe politica che abbiamo portato in Parlamento potrebbe essere anche un fine nobile persone che non avevano un grande livello di istruzione anche da classi più popolari in effetti il Parlamento italiano dell'immediato dopo guerra era un Parlamento in cui c'erano molti avvocati persone che potevano permettersi di fare il parlamentare però compariamoci con altri paesi la linea rossa sono la percentuale di membri del congresso degli Stati Uniti con laurea e vedete che lì siamo al 100% addirittura due terzi dei membri del congresso negli Stati Uniti vengono dall'Ivy Leagues dell'università migliori degli Stati Uniti quindi insomma c'è un problema credo di formazione di cultura politica di rappresentanze anche qui le rappresentanze queste sono le rappresentanze sindacali che invecchiano quindi anche questo rende più difficile avere orizzonti più lunghi il sindacato italiano è il più vecchio d'Europa secondo queste statistiche non è un caso che il sindacato rifiuti di pubblicare i dati anagrafici sui propri scritti quindi vabbè per chiudere insomma io penso che l'Italia sia intrappolata in una situazione di circuito deprimente di bassa crescita bassi salari e bassa produttività questo è il modello di stagnazione dell'economia italiana che è prevalso negli ultimi 15 anni per tornare a crescita bisognerebbe invece valorizzare il capitale umano questo sostenerebbe l'offerta la produttività ma anche nell'immediato potrebbe avere effetto sui consumi e quindi avere degli effetti anche molto più rapidi di quanto si pensi non bisogna avere paura della globalizzazione anche se bisogna essere consapevoli che ci sono dei costi associati alla maggiore competizione ma bisogna accettare le sfide l'apertura l'internalizzazione può fare molto bene all'economia italiana le cose più positive che io vedo oggi sull'economia italiana sono legate al processo di internazionalizzazione che avviene comunque al di là di tutti i goffi tentativi che vengono fatti per bloccarla a partire da questo fondo strategico della cassa depositi e prestiti le riforme si possono fare basta voler investire la cosa che davvero oggi manca in Italia che è il capitale politico per davvero fare queste riforme e creare attorno a queste riforme un grado di consenso tale da poterle poi mettere in atto bene grazie Tito Boeri per questo illuminante seminario intervento adesso ci sono alcuni minuti per domande dal floor il mio ambito di competenze che non è nell'economia sono il lavoro sulla scienza dei materiali per l'energetica però ho capito quasi tutto quello che ha spiegato il professor Boeri una cosa non mi è chiara la diapositiva dove parla della spesa pubblica non mi capacito del fatto che pur con tutti no c'era una diapositiva con un histogramma una parte positiva una parte negativa cioè non mi capacito del fatto che con tutti i tagli che ci sono stati nella spesa pubblica l'università l'amministrazione in generale eccetera eccetera si è aumentata lo stesso la spesa pubblica no mi domando se per caso una parte di qui i soldi prende delle strade misteriose almeno misteriose per me questa è la prima domanda che volevo farle la seconda domanda riguarda uno dei punti qui riportati nella scaletta sappiamo tutti che il paese non si sviluppa se non investe in ricerca e innovazione la Germania ha in periodo di crisi ha aumentato gli investimenti in questo settore mentre noi no in particolare per un paese medio piccolo come l'Italia per competere bisognerebbe specializzarsi produttivamente allora l'altra domanda che volevo fare al professor Boeri riguarda questo è dato che sembra che sia inevitabile che il maggiore business dei prossimi decenni consisterà nella conversione delle fonti energetiche da combustibili fossili rinnovabili se sia il caso che l'Italia con un governo ovviamente più lungimirante dell'attuale investa in questo settore in modo da diventare competitivo e esportare tecnologia già oggi noi siamo solo degli installatori per esempio di pannelli fotovoltaici perché li importiamo dalla Germania ne siamo installatori e assemblatori perché non investire in questo settore che dal mio punto di vista è il futuro insomma raccogliamo ancora un po' di domande buongiorno grazie volevo solo dire una cosa su per quanto riguarda dico anche una cosa antipatica che forse mi attirerà qualche antipatia ma sul discorso del lavoro femminile personalmente quella non è una riforma a costo zero perlomeno non lo sarebbe per la mia famiglia nel senso che perderei insomma questo importo e sono molto concreto io lavoro in un ambiente dove più alta concentrazione di lavoratrici femminili comprese la mia responsabile che ha un figlio e una mia collega che non ha figlia non ne vuole avere e che fa più carriera di me diciamo e mia moglie a casa con tre bambini piccoli perché 5-3-2 anni con questa riforma che mi pare dire togliamo delle la detrazione per il familiare a carico senza potenziare i ridicoli finanziamenti che ci sono per la famiglia al giorno d'oggi e diamo un bonus alle lavoratrici in questo caso le mie colleghe che guadagnano più di me avrebbero più soldi io ne avrei meno per me e per i miei figli e per mia moglie senza che mia moglie potesse del resto trovare un lavoro chiudo dicendo che mi pare che il vero discrimine oggi non sia tanto sulla femminità ma sulla maternità non sarebbe più interessante fare questo bonus fiscale per le mamme e direi anche per i papà perché anch'io mi prendo i mesi sono stato un mese a casa mi hanno guardato male eccetera per chi fa figli perché non è che forse e finisco questa è una vostra battaglia della voce info anche di chi non è che forse parte di questa stagnazione non sia anche una stagnazione demografica importantissima e il fatto che oggi gli elettori che hanno più di 70 anni siano il doppio di quelli che hanno meno di 18 che non votano non ci dà forse una luce su quella torta della divisione delle risorse grazie un'osservazione prima di fare la domanda nell'elenco che approvo totocorde delle riforme manca lo smagrimento dell'apparato dello Stato conosci insomma le ricerche di quella commissione che si è interessata di spesa pubblica e che trova che le prefetture potrebbero essere ridotte a una ogni 500.000 abitanti e via dicendo insomma accorpare i tribunali con un aumento di produttività grazie alla maggiore specializzazione di giudici ecco tutte queste cose che potrebbero avere un effetto profondo non immediato ma profondo nel medio termine sono bloccate da lobby territoriali che fino ad ora sono stati invincibili quindi il problema c'è la cura c'è è difficile da applicare questo mi serve per contrasto per dire che invece c'è un po' di mistero sul fronte delle liberalizzazioni che non riescono a procedere perché noi abbiamo dei guai molto seri sul piano anche della democrazia in Italia quando pensiamo alla legge elettorale che praticamente ha scippato il diritto insomma di votare il proprio rappresentante pensiamo alla trasformazione del dibattito politico in scena televisiva quindi concentrata sul leader tutto questo di cui non si può parlare abbastanza male ha però un riflesso secondo me positivo sul fronte delle liberalizzazioni perché riduce il peso delle lobby che si esercita di più quando si può favorire il candidato locale che ha bisogno del voto eccetera eccetera perché appunto nella scena televisiva concentrata sul leader dovrebbe prevalere la larga popolarità di una riforma liberalizzatrice rispetto a quello che può essere insomma il gioco delle lobby che numericamente sono pur sempre ridotte e se nonostante non si riesce a procedere ecco se sai tu spiegare questo mistero raccolgo ancora una domanda perché mi sembra che il tempo stringa no Tito c'è qualche studente qualche curiosità da parte del soprattutto va bene allora magari rispondi a queste poi vediamo se c'è qualche altra questione tutte domande molto 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 utili anche per chiarire cosa dicevo beh questo grafico semplicemente vi fa vedere la variazione della composizione della spesa pubblica in Italia durante la grande recessione quindi sono in termini percentuali insomma la spesa pubblica può aumentare in rapporto noi si guarda sempre la spesa pubblica se invece guardiamo all'andamento complessivo della spesa pubblica noi guardiamo sempre all'andamento della spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo perché è un modo in qualche modo di rapportare la spesa pubblica alla capacità di un paese di generare reddito e quindi di raccogliere delle tasse che servono poi a finanziare queste spese durante il 2009 il rapporto tra spesa pubblica giustamente veniva sottolineato e prodotto interno lordo è aumentato e dice come mai dato che ci sono stati tagli beh conta non soltanto quello che succede al numeratore cioè alla spesa ma conta quello che succede anche al denominatore quell'anno il PIL è crollato e quindi questo ha portato a far aumentare di più ci sono delle componenti di spesa che reagiscono all'andamento dell'economia per esempio la spesa per ammortizzatori sociali inevitabilmente lievita quando siamo in fase negativa del ciclo perché bisogna pagare di più sussidi di disoccupazione quindi ci sono delle cose automatiche che avvengono in Italia niente del tutto automatico ci sono tante cose discrezionali anche gli ammortizzatori sociali sono molto discrezionali se pensiamo alla Cassa Inderog o altre cose ma non c'è tempo di sottolineare questo quindi questo spiega quel fatto sulla questione delle fonti rinnovabili sono molto d'accordo io non sono un esperto di energia quindi non però penso così di buon senso semplicemente che quello che avverrà probabilmente è che comunque il costo del nucleare al di là di tutto tenderà a lievitare nei prossimi anni perché questi episodi spingeranno a rafforzare di molto le norme di sicurezza il che è giusto ma al tempo stesso chiaramente vorrà dire costi più alti per la produzione di energia nucleare e quindi un paese come il nostro che in qualche modo può permettersi non avendo ancora fatto una scelta forse potrebbe potrebbe pensare effettivamente di più quantomeno di la cosa però importante per non sprecare risorse è dare dei segnali coerenti io penso che in Italia il problema è che su queste scelte abbiamo dato dei segnali di un'incoerenza totale abbiamo prima dato gli incentivi per il fotovoltaico poi siamo ritornati indietro perché costavano troppo poi li abbiamo inseriti questi segnali contrastanti sono il nemico degli investimenti degli investimenti da tutti i punti di vista gli investimenti delle famiglie che installano gli impianti ma anche gli investimenti delle persone che tendono a investire energia intellettuale ricerca in un settore che pensano possa avere un futuro quindi è davvero grave questi tentenamenti sono davvero molto costosi non sono solo riforme a costo zero io quando parlavo di costo zero parlavo per le casse dello Stato ovviamente so bene che alcune di queste riforme hanno qualcuno che ci perde altrimenti sarebbero facilissime da fare dicevo bisogna costruire il consenso politico perché ci sono delle categorie che possono pagare un costo faccio l'esempio del commercio ci sono probabilmente dei piccoli commercianti che in alcune di queste regioni hanno dovuto chiudere a seguito di queste riforme però bisogna guardare gli effetti complessivi netti di queste operazioni nel caso specifico io ritengo tuttavia che se ben disegnata un'operazione di questo tipo andrebbe dal lato di sostenere maggiormente i redditi delle famiglie soprattutto quelle meno abbienti e chiaramente ci sono altri strumenti che invece devono affrontare il problema della bassa natalità sono d'accordo peraltro con il fatto che c'è un problema anche demografico in Italia molto serio e che in parte questo problema demografico spiega anche se vogliamo molti dei ritardi che ci sono su altri piani quindi questo è un problema che va affrontato con delle misure di altra natura sia i servizi reali in termini appunto di asili nido sia in termini chiaramente anche di premi per i figli o delle misure che dovrebbero in qualche modo incoraggiare una maggiore natalità sulla questione della riforma della macchina dello Stato che veniva posta dal professor Muraro io sono molto d'accordo sul fatto che c'è bisogno di una riforma della macchina dello Stato e tra l'altro ritengo che il grosso problema si parla spesso del mezzogiorno io non ho parlato del mezzogiorno tra l'altro ripeto la mia non era una lista esaustiva non sarei così ambizioso da fare un programma di governo e ne ho l'ambizione di proporre un'agenda erano solo degli esempi voglio solo dire guardate che si possono fare delle cose poi ognuno sicuramente conosce molto meglio altri campi e altre proposte da fare sono anch'io convinto che la riforma della macchina dello Stato è fondamentale quando parliamo del mezzogiorno d'Italia penso che lì è il problema davvero centrale non è un problema di interventi l'unica cosa straordinaria che dovrebbero fare oggi al sud è fare una riforma straordinaria dell'amministrazione pubblica dello Stato al sud e questo probabilmente sarebbe qualcosa da cui partire per fare tante altre cose lì bisogna creare degli incentivi giusti il federalismo poteva essere so che l'ha studiato molto a fondo poteva essere un modo anche per instaurare dei meccanismi virtuosi e per incentivare però bisognerebbe farlo a geometrie variabili quindi dando più autonomia alle regioni e alle amministrazioni più efficienti e quindi incoraggiando quelle che fanno peggio a mettersi al pari di queste sulle liberalizzazioni c'era anche una domanda sulle liberalizzazioni le liberalizzazioni non si fanno perché è difficile acquisire il consenso questa è una domanda difficilissima io penso la mia impressione è che le liberalizzazioni spesso si trovano un po' di fronte a questa situazione in cui c'è una dispersione molto ampia dei benefici delle liberalizzazioni perché in quanto consumatori noi ne beneficiamo però i benefici da una liberalizzazione per esempio come quella della grande distribuzione non sono poi così forti non è che li vediamo e li percepiamo così mentre i costi sono molto concentrati e tra quelli che sono concentrati questi ne sono estremamente consapevoli sono estremamente agguerriti e capaci di organizzarsi nel contrastare queste riforme politici che non hanno grandi orizzonti che soprattutto non vogliono investire capitale politico capitale politico vuol dire spiegare alla gente quali sono i benefici della liberalizzazione non hanno la cultura politica per farlo fanno molto fatica a far capire che diciamo il trade off diciamo alla fine in qualche modo è favorevole che questo scambio alla fine è favorevole insomma quindi questo potrebbe forse spiegare spiegare in parte il problema ma sicuramente ci sono tante altre cose che io non so anche perché dovrebbe sentire anche un po' i politici e le persone che ci hanno lavorato su questo per capire meglio i profili di questa opposizione alla liberalizzazione io so solo che è fortissima e che anche nel campo delle professioni vediamo costantemente dei tentativi di tornare indietro su quel pochissimo che è stato fatto sin qui la realtà è davvero drammatica c'è una ricerca che stiamo facendo in Bocconi ci sono qui in aula delle professioni che stanno studiando in particolare nel mercato accademico dei docenti quindi facciamo autocritiche guardiamo anche a noi stessi dove prevalgono ancora molte forme di nepotismo ma nel campo delle professioni davvero l'omonimia il fatto di avere nella stessa provincia qualcuno che ha il tuo nome ha degli effetti fortissimi sulla probabilità di ingresso nella professione e questo è un segnale credo al di là di tutti gli errori di misura che ci possono essere molto preoccupati va bene c'è qualche altro intervento ok do la precedenza a uno studente un attimo e poi professore volevo chiederle cosa le fa pensare che il sistema da lei proposto prima di tutela progressiva non porti alla fine una situazione analoga a quella attuale con i contratti a termine cioè che comunque i datori di lavoro non facciano cessare il contratto tutela progressiva al primo gradone o al gradone subito successivo grazie una battuta volevo fare sulla questione della decrescita ecco l'hai sbrigata un po' così perdoniamola come una battuta è chiaro che nell'immediato tutto gioca cioè la crescita risolve un sacco di problemi di debito pubblico di occupazione insomma di garantire successo agli investimenti fatti chi mette in discussione il modello economico ha in mente qualcosa di strutturale quindi un cambiamento delle preferenze se vogliamo nella preferenza che il nostro sistema dà alcuni tipi di beni quelli diciamo che finiscono nel PIL rispetto agli altri ecco in qualche modo siamo intrappolati in un meccanismo che ci invita a dedicare tempo energie ad acquistare particolari tipi di beni con risultati che poi sono stati constatati anche da tutti gli studi sul benessere che lì il risultato non si vede è molto probabile che la causa sia lo schiacciamento degli altri beni quindi è chiaro che se l'aereo è per aria non si può andare a cambiare il motore sostituire il motore ecco però diciamo in una prospettiva più lunga merita di essere discusso anche diciamo il modello di sviluppo anch'io due battute la prima sui piani energetici io in sede italiana non credo più nei piani energetici invece so che Brunico è diventato in pochi anni 100% autonomo con tutte le energie alternative applicate con piccole innovazioni incrementali nella gestione delle immondizie dei gas del distribuzione dei pannelli solari eccetera io credo che su questo uno sforzo localistico sarebbe la mossa vincente per far muovere il paese secondo punto quindi non aspettiamoci tanto dal piano sono meno sovietica di te punto numero due è l'internazionalizzazione che è una cosa che abbiamo studio da anni a livello micro è ottima e crea la strategia e l'impresa vincente a livello macro ho dei dubbi terribili penso che abbia un effetto di riduzione del reddito dei redditi distribuiti ai lavoratori dipendenti perché fa crescere i lavoratori dipendenti in Cina in India e in Romania a Tibisciohara piuttosto che a Triviso a Verona nei distretti italiani e locali e quindi credo che sia un processo che andava regolato quando è stata troppo veloce andava regolato o comunque un po' fermato in paesi a grande crescita economica come la Germania come sai il 60% dell'export europeo è della Germania è fatto dalla Germania in questi paesi ci sono stati contratti sidacali che in qualche modo abbassavano i salari locali e mantenevano le lavorazioni lì cioè c'è stata una visione meno ottimistica dell'internazionalizzazione e io ritengo che questo sia un punto interessante voglio dire ogni volta che un'impresa va via perde 100 operai e acquisisce due disegnatori capisci in termini di PIL il C cala C cala a meno che i profitti non vengano reinvestiti nel nostro paese di questa impresa che si arricchisce però l'Italia è centrifuga cioè non attira capitali nemmeno delle imprese italiane quindi ho un serio dubbio a livello macro grazie un ultimissimo intervento sì visto che è stata citata la crescita demografica volevo capire se c'è una differenza fra la crescita autoctona e quella dell'immigrazione invece grazie domande tutte molto interessanti su temi molto diversi quindi è difficile rispondere comunque vado velocissimo perché pensiamo che il fatto di avere questo contratto a tutte le progressive serva a ridurre il dualismo e non comporti gli stessi rischi della situazione attuale oggi i lavoratori che entrano nel mercato i giovani soprattutto entrano senza alcun tipo di tutela se uno ha la fortuna di avere un contratto diciamo più la fortuna a tempo determinato durante la durata del contratto è protetto alla scadenza del contratto può essere licenziato a costo zero se uno nel parasobordinato non ha nessuna protezione durante l'intero durata del contratto quindi non ha neanche quella tutela provvisoria al termine del contratto viene licenziato e non deve il datore di lavoro pagare alcunché per il suo licenziamento nel tipo di contratto che noi abbiamo proposto c'è una crescita progressiva delle tutele che cresce gradualmente senza forti discontinuità per evitare quell'effetto di deterrenza sul datore di lavoro però comporta il fatto che mettiamo pure che a un certo punto c'è un incremento delle tutele perché dopo tre anni almeno nella formulazione attuale prevediamo che si passi a tutti gli effetti sotto la normativa attuale quindi dopo tre anni per i lavoratori nelle grandi imprese ci sarebbe un certo incremento delle tutele noi pensiamo che a quel punto il ruolo deterrente sarebbe molto minore perché la preoccupazione del datore di lavoro è quando non sa bene non conosce bene le qualità del lavoratore questo problema dopo tre anni si sa con chi si ha a che vedere e si è investito anche in formazione quindi a quel punto prendersi degli impegni più forti con il lavoratore non sarebbe così forte ma anche se davvero il datore di lavoro aspettasse di arrivare alla fine di quel periodo lo licenziasse il lavoratore comunque avrebbe nella proposta attuale sei mesi di indennità che non sono pochi che darebbero una tutela quantomeno al lavoratore quindi sarebbero sicuramente un miglioramento rispetto alla situazione attuale ma l'idea è che non ci sia che questo incentivo venga molto ridotto dal fatto che c'è investimento in formazione prima e che quindi il datore di lavoro che ha già investito nella formazione del proprio dipendente si rende conto che se lo licenzia deve investire nella formazione di qualcun altro il costo della formazione attenzione può essere molto alto è qualcosa che quello sì è deterrente al licenziamento quella è la vera protezione che noi possiamo ambire del nostro posto di lavoro la formazione che noi acquisiamo anche la nostra produttività sul posto di lavoro la seconda cosa che veniva detta era in riguardo alla decrescita ma io me la prendevo molto sbligativamente ammetto con quelli che obiettano quando si parla di crescita economica dice no bisogna puntare invece sulla decrescita non ho nulla in contrario se qualcuno teorizza che le preferenze dei cittadini dovrebbero essere diverse e cerca di convincere i cittadini che devono in qualche modo apprezzare anche un'economia in cui si abbiano tutte quelle cose che dicevo prima se qualcuno mi portasse delle indagini che dicono che i cittadini sono disposti a vedere aumentare ulteriormente quelle cose che dicevo prima l'onere del debito pubblico a dovere o ridurre le pensioni oppure in qualche modo avere una quota della spesa pensionistica le tasse che aumentano tutte queste cose che se gli vanno bene quelle preferiscono crescere di meno io in qualche modo potrei essere pronto ad abbracciare delle teorie i teorici la cosa che i teorici della crescita fanno non è tanto fare quello dovrebbero andare per esempio davanti alle fabbriche e dire ai lavoratori se fossero coerenti tagliatevi riducete il vostro salario accettate delle riduzioni del vostro salario perché questa è la filosofia potete vivere con meno questo è quello che si dice allora andiamo e sosteniamolo e facciamone una battaglia culturale e su questo se qualcuno vuole farla non avrei nulla in contrario si prende alle sue responsabilità e poi la sostengo la cosa che un po' non capisco è quando si propone alla luce di quelle che sono attualmente mi sembra le cose che noi possiamo vedere nel comportamento delle persone nel comportamento elettorale nei sondaggi di opinioni le preferenze dei cittadini quelli che dicono no tu sbagli a puntare sulla crescita poi sono il primo a essere d'accordo sul fatto che la crescita è soltanto una condizione necessaria per fare tante cose poi chiaramente ci sono tante altre cose che uno deve fare perché la crescita sia in qualche modo faccia aumentare il benessere in modo significativo c'è anche un aspetto distributivo di cui non ho parlato minimamente che non è di poco conto un conto è se cresce il reddito come è successo negli ultimi anni solo dello 0,5% della popolazione più ricca un conto è se invece i guadagni di reddito sono diffusi sull'energia davvero questi sono campi di cui non mi occupo per cui non mi sento di dire nulla di più sui piani sono altrettanto scettico in generale parlavo del piano di risparmio energetico perché c'era stato un impegno del governo a rilasciarlo e questo continuo rinvio mi dice soltanto che vuol dire che non ci stanno pensando i piani servono talvolta a dilazionare talvolta servono solo a dilazionare però il fatto che non ci sia nulla non ci sia neanche una riga nel PNR su questo mi sembra che sia abbastanza indicativo sull'internazionalizzazione davvero ci sono sicuramente tante questioni legate a quelle in Germania è vero che sono state fatte anche delle riduzioni e degli aumenti di orari di lavoro addirittura sono state introdotte degli istituti come i working time account per permettere una maggiore internazionalizzazione io penso che la chiave in questo contesto è quello di permettere una maggiore contrattazione aziendale azienda per azienda e davvero questo è il passo importante se parliamo di come accomodare queste scelte di internazionalizzazione più spinte perché davvero è molto utile avere la possibilità azienda per azienda siccome abbiamo un tessuto imprenditoriale così diverso di fare quelle politiche che sono maggiormente favorevoli a questo processo di internazionalizzazione e che al tempo stesso ne riducono i costi nel senso di salvaguardare posti di lavoro nel senso di migliorare la qualità del lavoro cambiare gli orari insomma fare tutti quegli aggiustamenti che sono necessari in questo processo per renderlo meno costoso possibile per aumentarne invece i benefici sapendo che i benefici netti comunque non sono positivi infine c'era una domanda l'ho scritta male sulla crescita giusto degli immigrati e degli autotoni gli studi dimostrano che la prima generazione di immigrati tende ad avere dei tassi di natalità superiori a quelli della popolazione che li riceve d'altra parte vengono da paesi in cui normalmente ci sono tassi di fertilità più alti e mantengono questa diciamo predisposizione anche quando arrivano nel paese che li accoglie dalla seconda generazione di immigrati in poi cioè figli degli immigrati tendono ad assimilarsi a livello al comportamento diciamo demografico della popolazione che li riceve della popolazione autotona è indubbio che l'arrivo degli immigrati come semplicemente l'arrivo di immigrati ha portato a far sì che il saldo naturale che ci fosse una crescita della popolazione italiana i tassi di fertilità non possono degli immigrati quindi a lungo andare soprattutto in un quadro in cui dovessero ridursi i flussi migratori come sta succedendo alla luce della crisi e dell'andamento della nostra economia non sarà qualcosa che di per sé credo ci porta a impedire che ci sia un declino demografico all'interno del nostro paese quindi non illudiamoci non è il fatto che siano arrivati un po' di immigrati in passato che ci mettono nelle condizioni di avere dei tassi di fertilità più alti o non preoccupiamoci non so dipende da quale lato perché c'è chi guarda queste cose con atteggiamenti diversi quindi non so quale sia la sua personale però appunto credo che non possiamo aspettarci e la dinamica dei flussi migratori è in forte calo in Italia c'è stata molta immigrazione di ritorno nell'ultimo anno queste immigrazioni clandestine che stiamo vivendo in questi giorni sono moltissime immigrazioni di transito non vogliono rimanere da noi vogliono andare altrove certo che se poi noi chiudiamo Schengen e scriviamo io non ho capito questa cosa davvero non l'ho capita e non ho capito perché nessun giornale lo dice ma se noi oggi chiudiamo Schengen veramente ci tiriamo la zappa sui piedi perché arrivano da noi perché per questioni geografiche vogliono andare altrove non li facciamo andare altrove tra l'altro sarebbe meglio per gli immigrati sarebbe forse meglio per noi gli immigrati quando possono andare vanno dove c'è lavoro quindi in qualche modo le loro scelte di dove andare sono le scelte che creano meno costi sociali all'immigrazione se riteniamo per forza di cose da noi con le condizioni attuali del nostro mercato del lavoro non credo che facciamo un'operazione molto giusta no purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo già approfittato fin troppo grazie Tito sappiamo che hai una lunga giornata ancora davanti quindi grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille